L'ennesima imprecisione difensiva fa pendere verso il campo basso, una sfida da dentro fuori per la Fidelisandria che Aldeglio Livi proprio non trova il feeling con i punti. Quinta sconfitta consecutiva tra le mura amiche in campionato per gli uomini di Ginestra che non trovano il successo casalingo dalla sfida del lontano novembre contro la Turris. Il problema è che si aggiunge ancora l'asfittico attacco biancazzurro a complicare i piani salvezza Andriesi. Il campo basso di Cudini espugna Andrea per la prima volta nella storia e mette la freccia verso la salvezza diretta. Ha un primo tempo molto equilibrato e con l'ennesimo legno colpito dai biancazzurri fa da contraltare una ripresa decisamente più sottotono in cui il campo basso sfiora su calcio piazzato un paio di volte il vantaggio prima del gol di Tengorang. Ma andiamo con ordine. Ginestra, tornato in panchina dopo il turno di squalifica, si affida al classico 3-5-2 e fa esordire subito Ciotti sulla destra anche a causa della squalifica di Capitan Casoli. Monterisi all'esordio in difesa con legittimo in panchina attacco affidato ancora di Piazza e Bubas. Di contro il 4-3-3 di Cudini con Mercai e Mausso e Liguori a dettar le danze davanti senza un vero e proprio punto di riferimento. Una mossa che nei primi minuti mette in difficoltà la Fidelis ed è proprio il numero 10 ospite ad avere la palla giusta dopo 13 minuti. Il suo tiro è però salvato dalle manone di Saracco. La Fidelis però prende campo e fiducia e alla mezz'ora prova con Carullo a spaventare il campo basso con una punizione ben tagliata in aria che dal mazzi tocca quel tanto che basta per metterle in corner. La pressione di casa al 37esimo, uno dei momenti più importanti del match di Piazza, servito bene in profondità dal lancio di Alcibiade, si libera in aria e calcia di sinistro a Zammarion battuto ma la sfera si stampa contro il palo interno. Terzo legno in due gare. E' la parola a fine sul primo tempo ma nella ripresa la Fidelis appare sin da subito abbastanza imballata e inizia il duello a distanza tra Mausso e Saracco. In dieci minuti sono due le punizioni da posizione identica che il numero 10 calcia e su cui si fa trovare pronto il bravissimo estremo difensore di casa che nel primo caso sfiora anche quel tanto che basta la palla per mandarla sulla traversa. Sempre Mausso di testa mette incredibilmente sul fondo un assist intelligente di Persia. Ginestra allora prova a dare una scossa ai suoi inserendo il trequartista Tulli e dopo cambia anche l'intero attacco inserendo Messina e Ortisi ed è proprio Messina alla mezz'ora ad avere l'occasione giusta per il gol del vantaggio. L'instancabile Riso lo pone da sinistra un pallone perfetto per il piattone al volo del 21enne attaccante andriese che però da pochi passi la alza davvero troppo. Gol sbagliato, gol subito. Sul ribaltamento di fronte infatti il neo entrato sbardella a scodellare al centro, da destra un pallone apparentemente innocuo che invece Tenko Rang trasforma in oro anticipando Monterisi e beffando l'intervento disperato di Saracco. Il gol spegne completamente la luce alla Fidelis che prova un assalto finale assolutamente inefficace per cercare il pari e anzi di Francesco a calciare dal limite. Sempre attento Saracco. Finisce tra i fischi degli Ulivi, un match che avrebbe potuto riportare la Fidelis a guardare più da vicino la salvezza diretta e che invece lascia in terz'ultima piazza i Biancazzurri che ora mercoledì saranno attesi da un nuovo turno casalingo, questa volta contro il Catania.